Il ruolo della cultura e della conoscenza per abbattere barriere sociali e religiose se ne è parlato a Palazzo Panciatichi durante la tavola rotonda Libro educazione e dialogo interreligioso nell'ambito della mostra evento Liber di Angelo Ponte Corboli Dove non arriva la diplomazia, dove non arriva nemmeno l'uso delle armi per superare i contrasti tra gli uomini soprattutto quando questi contrasti trovano una loro ragione su anche un'idea di vino Conoscersi e ci si conosce attraverso i libri attraverso il andare a vedere quello che dicono gli altri quelli che sono anche i dati sensibili, le aspirazioni, quello che le persone hanno nel cuore La drammatica situazione politica e sociale di alcune aree del pianeta fa emergere la necessità di dare forza al dialogo interreligioso così da creare valori condivisi Il libro è anche pubblico perché oggi è anche stampato quindi tutti possano sapere quello che noi diciamo quello che noi pensiamo e gli altri possano leggere l'uno quello che scrive l'altro ed essere ispirati per fare di nuovo quel compito nostro con uomini del Signore Dio vuole la pace, non vuole la guerra La cultura è il primo tentativo con cui io entro nei panni dell'altro entro nel tentativo di comprendere chi ho davanti di comprendere il suo mondo culturale e quindi di imparare a dialogare L'incontro tra culture e religioni è una delle condizioni per affrontare le delicate sfide del presente Quest'anno proprio il dialogo ebraico-cristiano-musulmano ha proposto, sta proponendo una serie di incontri sull'intolleranza religiosa che non è solamente una questione tra le conflessioni diverse come generalmente si pensa ma è un problema anche interno ad ogni singola confessione Ogni religione ha il suo credo, i suoi dogmi, la propria fede però è attraverso la conoscenza delle religioni reciproche che si può stabilire un dialogo anche fra diversi e fra lontani Il libro racchiude il pensiero, l'idea, la visione e la ferma, la blocca su delle pagine che possono essere trasmesse possono essere trasmesse ad altri e quindi diciamo è un mezzo di comunicazione principe perché la parola sicuramente è quello più immediato ma quello che resta, quello che può essere anche poi letto da più persone è sicuramente il libro